Io ho avuto ricoverato a mia madre ultimamente un mese in medicina e devo dire un reparto meraviglioso con medici, infermieri e quant'altro fantastici. In dialisi, che la mia mamma ha iniziato la dialisi, uguale non trovo aspetti negativi. Certo, poi quando si va a fare gli esami e le file che ci sono da fare, ma per il resto l'ospedale funziona. Per quanto mi riguarda io mi sono trovata bene. Io soprattutto le visite, perché vanno a lunga in una maniera incredibile, anche quella a pagamento, ho prenotato una visita per esempio, pensavo di andare presto, il 7 marzo. Una cardiologica, perché il mio marito aveva bisogno di una visita urgente, penso che non è corretto, l'intramedia, pensi le altre, basta così. Pregi e difetti di questo ospedale secondo lei? Il difetto è che è piccolo per la zona, per tutti i miei posti, la gente è tanta e dopo i pregi è bello stabile, ma come dico è piccolo, pochi posti letto e basta. Non basta a servire secondo lei questo bacino? Non basta a servire la zona, perché è inutile, la zona basta. Sulla qualità e sui tempi delle prestazioni? Io oggi vengo a prendere un appuntamento per il mese di luglio, se mi riesce, se mi riesce. Io sono stata solo fortunata, perché sono riuscita ad avere delle visite tutte a gennaio, però è stato solo un colpo di fortuna, perché se no muori, lo dico muori, perché sono otto mesi, tu muori, otto mesi di attesa, non si può.